Sono Laura Benzoni, presidente dell'associazione Mat Club di Amici del Museo Arte Tempo. Quest'anno, oggi, compiamo tre anni, l'associazione compie tre anni, quindi sono tre anni di attività che abbiamo organizzato per sostenere il museo, per sostenere questo bellissimo luogo e la cultura in generale a Clusone. Abbiamo fatto un po' del nostro meglio, abbiamo raggiunto ormai oltre 200 associati e oggi, come ormai da tradizione, nominiamo alcuni soci onorari, quindi alcune persone che particolarmente quest'anno ci hanno aiutato. Quindi è un'occasione questa per ringraziare il gruppo fermodellistico di Bergamo che ci ha aiutato nell'organizzazione della mostra dedicata alla ferrovia che è stata appunto esposta in museo da dicembre ad aprile che ha avuto in circa quattro mesi oltre 4.000 visitatori. Quindi grazie davvero al loro interesse, alla loro professionalità, ai loro modellini che erano esposti, alla loro capacità anche di tenere banco nelle conferenze, nei loro approfondimenti siamo riusciti comunque a realizzare, ovviamente in collaborazione col museo, un'altra bellissima cosa. Altri due associati onorari che vogliamo fare oggi sono Marisa Domine e Daniele Pons che sono i due redattori del catalogo degli orologi del museo che si stanno impegnando per una sorpresa che speriamo di rendere disponibile a tutti per Bergamo Scienza che ci sarà a settembre-ottobre, un orologio ad acqua. Quindi non vi dico nulla, comunque ringraziamo davvero loro per la loro simpatia e per la loro professionalità come sempre per lanciare appunto questa collezione che è estremamente particolare. Buongiorno, io sono Silvia Lodetti di ML Engraving. L'azienda ha deciso di collaborare al progetto Rivoluzione Digitale per MAT Museo Arte Tempo Clusone perché crediamo nell'innovazione, promuoviamo l'innovazione e sicuramente questo è un progetto originale e unico nel suo genere. Sono nati per seguire le diverse fasi di produzione delle automobili all'interno della filiera produttiva. Solo di recente la diffusione capillare di dispositivi elettronici dotati di fotocamera come smartphone o palmari ne ha reso possibile la diffusione. Sfruttando questi link, oggi gli enti turistici possono stampare codici QR su una brochure per mostrare in un video le bellezze della località da promuovere. Gli stilisti possono inserirli negli inviti e mostrare anteprime delle loro sfilate e i designer possono arricchire i loro pezzi unici attraverso questi veri e propri portali sulla realtà virtuale. L'itinerario QR MAT non si sostituisce alle classiche modalità di visita ma chi si lascerà trasportare dal gioco multimediale avrà la possibilità di immergersi in un'esperienza davvero innovativa e completa, trovandosi ad interagire con diversi tipi di contenuti. Uniche condizioni necessarie per potersi godere questa esperienza sono l'avere un dispositivo elettronico come uno smartphone o un tablet, una connessione wifi che qui è offerta gratuitamente dal museo e un'applicazione per la lettura dei QR. Il percorso può essere affrontato in diverse modalità, in modalità spot, cioè interrogando solamente quei codici che solleticano la nostra curiosità oppure seguendo l'itinerario consigliato che consente di spostarsi avanti e indietro utilizzando un pannello di navigazione inserito direttamente all'interno dell'interfaccia.